Abbiamo ricevuto in dono un semi prezioso, custode del dolore di milioni di persone, si chiama memoria. Ora sta a noi far crescere viva e luminosa la sua pianta contro il buio dell'odio e dell'intolleranza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Porto in me sei milioni di morti che parlano la mia lingua, che chiedono all'uomo di ricordare, all'uomo che ha così poca memoria. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.